Vi leggo una parte del canto trentesimo in cui Dante incontra finalmente Beatrice. Siamo al verso 22, Dante dice Io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosatra e l'altro cielo di bel sereno adorno. Cioè io vidi già nel cominciare del giorno, cioè al sorgere del sole, la parte orientale tutta rosata, tutta rosa e l'altro cielo adorno, cioè adornato, di bel sereno. Quindi si vede già il chiarore da una parte e da quell'altra si vede il rosso. E la faccia del sole nascere ombrata, cioè la faccia del sole nascere un pochino velata, come spesso è la mattina, sì che per temperanza di vapori l'occhio lo sostenea lunga fiata, così che per il fatto che i vapori temperano, cioè affievoliscono il chiarore del sole, l'occhio poteva sostenere la luce del disco solare per lunga fiata, cioè per lungo tempo. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù, dentro e di fuori, cioè dice così dentro una nuvola di fiori che saliva dalle mani angeliche e ricadeva in giù, dentro e fuori, sopra un candido velo cinta di oliva, quindi diciamo questa donna che apparve aveva un velo e sopra questo velo aveva una corona di olivo, mi apparve, mi apparve questa donna. E sotto un manto, c'aveva un mantello verde, era vestita di rosso. Chiaramente l'immagine è l'immagine di una donna pudica, i colori chiaramente sono simbolici, il bianco è la fedeltà, il verde è la speranza, il rosso è la carità, ma l'apparizione di Beatrice ovviamente qui è un'apparizione di una donna divina quasi, quasi di una dea. Sembra una epifania come si dice tecnicamente questo tipo di apparizione, una epifania divina. E quello che vorrei che voi rimarcaste qui è il fatto che c'è un richiamo abbastanza diretto a chiare, fresche e dolci acque, in quella strofa in cui si richiama Beatrice avvolta di fiori che cadono dagli alberi. Qual è la reazione di Dante? E lo spirito mio, che già con tanto tempo era stato che la sua presenza non era di stupor, tremando affranto, e il mio spirito che già da così tanto tempo era stato, che alla sua presenza non era affranto di stupore, tremando, cioè era tanto tempo che non la vedeva e che quindi non aveva questa reazione quasi emotiva di vederla di fronte, senza degli occhi aver più conoscenza, senza averla più vista di vista, per occulta virtù che da lei mosse d'antico amore sentì la gran postenza, cioè per una occulta nascosta virtù che nacque da lei sentì la grande potenza dell'antico amore, cioè il suo spirito si sente di nuovo l'amore che prima aveva provato per Beatrice. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già mi aveva trafitto, pria che io fuori di Puerizia fosse, cioè non appena nella vista mi percosse, mi colpì l'alta, la grande virtù che già mi aveva colpito prima che io fossi fuori di Puerizia, cioè quando io ero ancora un ragazzino, ricordatevi che Dante si innamora di Beatrice prima vedendola a nove anni e poi dopo rivedendola a diciotto, abbiamo visto anche la chiesa davanti, dove si erano incontrati, e volsimi a sinistra col rispitto col quale il fantolin corre alla madre quando ha paura quando egli afflitto, per dicere a Virgilio, io mi volsi, non appena vidi questa donna che mi trafisse il cuore come un tempo, mi volsi a sinistra con il rispetto con il quale il ragazzino corre dalla madre quando, notate che usa mamma, un termine affettivo, quando ha paura o quando è triste, afflitto, per dire a Virgilio, cioè non si è accorto che Virgilio non c'è più, e quindi si gira a sinistra aspettando solo di trovare, sapete che nel passo precedente noi abbiamo visto di fatto il commiato di Virgilio, e non si è accorto che in realtà Virgilio non ha barcato la porta dell'Eden. Men che dramma di sangue mi è rimasto che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma, cioè non c'è una dramma, cioè non c'è quasi un grammo di sangue che mi è rimasto che non tremi, cioè tremo tutto. Riconosco i segni dell'antica fiamma, e questa è chiaramente una citazione del passo di Didone in cui Didone parla ad Anna e gli dice, riconosco i segni dell'antica fiamma, la fiamma che lei prima aveva provato per Sicheo e che adesso provava per Enea. Ma Virgilio ne aveva lasciati scemi di sé, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemmi. Notate l'anafora di Virgilio in questo senso, ma Virgilio ci aveva lasciati scemi, cioè privi di lui, Virgilio padre dolcissimo, Virgilio a cui mi diedi diemmi per la mia salute, cioè per la mia salvezza, cioè mi affidai, né quantunque perdeo l'antica madre valse alle guance nette di rugiada che lagrimando non tornasse ad atre, cioè né tutto ciò che l'antica madre perse, questo perdeo vuol dire perse, cioè Eva perse, cioè il paradiso terrestre, cioè la bellezza del partito terrestre, valse, non valse alle guance pulite dalla rugiada che con cui Virgilio aveva fatto pulire Dante sulle rive del purgatorio appena uscito dall'inferno, non valse, diciamo, la bellezza alle guance pulite dalla rugiada che non tornassero atre, cioè scure lagrimando, cioè di pianto di fatto, cioè Dante risporca il proprio viso di pianto, un po' per tristezza di Virgilio ovviamente, un po' anche per lo shock di vedere Beatrice. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere ancora, che piangere ti conviene per altra spada, Dante, perché Virgilio se ne è andato, non piangere ancora, non piangere ancora, notate questa ripetizione, che piangere ti conviene per un'altra ferita. Perché, come vedremo, Beatrice metterà di fronte Dante alle sue manchevolezze, soprattutto nei suoi confronti. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a vedere la gente che ministra per gli alti legni e a ben farli ancora, cioè come un ammiraglio che si mette sulla poppa o sulla prura, a vedere la gente che sta amministrando, che sta guidando per gli alti legni, per le altre barche, e l'incoraggia, l'incora a fare del bene, in sulla sponda del carro sinistra, quando mi volse al son del mio nome, che di necessità qui si registra, vide la donna che prima apparì o velata sotto l'angelica festa. Cioè, come un ammiraglio sulla sponda sinistra del carro, cioè Beatrice si appoggia alla sponda sinistra del carro probabilmente per farsi vedere meglio da Dante. Ora dovete capire che Dante è di fronte al fiume Lete, che praticamente distingue il punto real di passaggio tra la cima del monte e il paradiso terrestre. E Beatrice è dall'altra parte del fiume, e quindi per sentire meglio e per parlare meglio a Dante si mette sulla sponda sinistra, cioè dalla parte di Dante. E non solo aggiunge questa cosa, ma dice anche un'altra cosa. Quando mi rivolsi al suono del mio nome, cioè lei si era messa dalla mia parte quando io mi girai verso di lei al suono del mio nome, che si registra qui per necessità. Perché dice questo? Perché la battuta dei versi precedenti, in cui Beatrice dice Dante perché Virgilio se ne vada, è una delle pochissime volte, se non l'unica, in cui dentro la commedia Dante è nominato. Dante non si nomina, e questa è una cosa abbastanza usuale, che il poeta non nomina in se stesso, per nome. Ma qui lo fa perché chiaramente è un discorso diretto, fatto da Beatrice nei suoi confronti. Quindi lui dice, mi volsi al suono del mio nome, che qui si registra le necessità, e cosa fa? Vidi la donna che prima mi apparve velata sotto alla festa angelica, di drizzare, indirizzare gli occhi verso di me, di qua dal rio, da qua dal fiume. Tutto che il vel che le scendea di testa, cerchiato dalle fronde di Minerva, non la lasciasse apparire manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice, è il più caldo parlare dietro riserva. Sebbene tutto che, sebbene, il velo che le scendea dalla testa, cerchiato dalle fronde di Minerva, cioè cerchiato dalla corona di Olivo, non la lasciasse apparire manifesta, cioè non si distinguesse bene il volto, regalmente nell'atto, comportandosi in modo regale, ancor proterva, cioè dura per certi versi, è un po' superba, altera potremmo dire, continuò a parlare come colui che dice, che parla, e riserva a dopo, il parlare più caldo, cioè l'elemento più importante che deve dire, cioè dulcis in fondo, in fondo per certi versi, ma qui più che dulcis, amaro. Guardaci ben, son ben, son ben Beatrice, finalmente si presenta e gli dice, guarda che sono Beatrice, sono proprio Beatrice, guardaci bene, come degnasti da accedere al monte? Come ti sei degnato di accedere al monte, di arrivare al monte? Strana espressione, o è un'espressione ironica, ti sei proprio degnato adesso di accedere al monte, oppure come è usato venire al monte, un modo un po' sdegnato. Non sapevi tu che qui è l'uomo felice, non sapevi che in cima al purgatorio c'è l'uomo felice, c'è la felicità? Ora, potrebbe essere ironico, questo è vero, però poi la rampogna che Beatrice gli fa dopo fa presupporre che in realtà ci sia un filo di, come dire, di biasomo in queste parole, come è usato venire qua. Gli occhi mi caddero giù nel chiaro fonte, cioè abbassa gli occhi Dante verso il fiume, ma veggendomi in esso, cioè si rispiecchia, i trassi all'erba, cioè li spostai verso l'erba, tanta vergogna mi graffò la fonte, cioè lui si vergogna di fronte alla lampogna che gli viene fatta da parte di Beatrice. Così la madre al figlio par superba come la parve a me, così la madre pare superba, un po' altera al figlio, come la parve a me, perché d'amaro sente il sapore della petata acerba, perché sente il sapore di amaro che proviene da una commozione, da un'affettuosità che acerba, cioè che dura. È un po' il fatto tipico di una madre che scride il figlio, che quindi diciamo dice parole amare, ma perché ha un affetto che in quel momento è un po' esacerbato. Ella si tacque, e gli angeli cantarono di subito in te domine speravi, ma oltre pedes meos non passarono, cioè non andarono oltre al versetto di questo farmo biblico in cui nei fatti si esprime la fiducia, come dice la nota al vostro libro, nel Signore nel momento della prova e dell'umiliazione. Alle parole di commozione degli angeli in confronti di Dante, Beatrice reagisce in modo un po' acerbo. siamo a verso 109, ho saltato un pochino, e Beatrice dice queste parole non pur per ovra delle erote magne che drizzano ciascun seme ad alcun fine secondo che le stelle son compagne, ma per la grezza di grazie divine che sti alti vapori ha a loro piova, che le nostre viste là non van vicine, questi futtal nella sua vita nuova, virtualmente, che egli con ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabile prova. Cioè cosa vuol dire? Non solo per opera delle ruote grandi che indirizzano ciascun seme, ciascuna persona in realtà, ha un fine secondo che le stelle ne sono compagne, cioè non solo perché il cielo indirizza i destini degli esseri umani secondo la disposizione che gli astri l'hanno conformato. Quindi lui già doveva essere una persona salva perché le stelle gli erano favorevoli, questo significa, ma per larghezza di grazia divina, ma anche perché aveva, diciamo, tanta grazia divina, che se alti vapori hanno a loro piova, cioè che alla loro discesa queste grazie divine hanno vapori così alti, producono vapori così altri, qui c'è diciamo allusione al fatto che la pioggia deriva dai vapori, ma che questo qui sarebbe una derivazione dei movimenti angelici, che le nostre viste là non van vicine, cioè che noi siamo incapaci di comprendere queste azioni angeliche, sia per la grazia divina, sia per il movimento degli astri, grazia divina che noi non possiamo comprendere perché chiaramente siamo incapaci. Questi, cioè Dante, fu tale nella sua vita nuova, chiaramente è un'allusione all'opera di Dante, la vita nuova, in cui Dante aveva parlato ovviamente di Beatrice, virtualmente per le sue virtù, che ogni abito destro, che ogni abito giusto fatto avrebbe in lui mirabile prova, ogni cosa che lo avrebbe portato alla giustizia, a comportarsi bene, avrebbe fatto in lui una prova mirabile. Cioè lui era destinato a grandi cose, sia per il volere degli astri, sia per la grazia divina, che diciamo al fatto che discende sulle persone, quando discende sulle persone, quando piove verso di lui, dà come frutto grandi vapori, cioè grandi effetti, così grandi che le nostre viste non sono in grado di comprendere. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terreno col mal seme e non colto, quant'egli ha più di buon virgore terrestro. Ovvero, quanto un buon terreno, un elli terreno, un terreno ha più di buon vigore, cioè più fecondo, tanto più maligno e più selvaggio si fa questo terreno quando ha un cattivo seme e non è coltivato. Cioè anche un buon terreno può tutto sommato dare effetti negativi, se è mal coltivato viene diciamo seminato con un cattivo seme. Alcuno tempo il sostenni col mio volto, per qualche tempo io lo sostenni con il mio volto. Mostrando gli occhi giovinetti a lui, me culminava in dritta parte volto, mostrando gli occhi giovinetti a lui perché lei era giovane, lo conducevo verso la diritta via girato, volto. Si tosto come sulla soglia fui, non appena io mi ritrovai sulla soglia della mia seconda età e mutai vita, quando io arrivai nella seconda età e mutai vita, questi si tolse a me e si chiede ad altrui. Qui fa riferimento al momento in cui Beatrice di fatto esce fuori dalla giovinezza e cambia vita, si sposa, ma dal punto di vista metaforico fa riferimento a un momento di traviamento di Dante in cui si sarebbe volto diciamo ad altre donne, o meglio ad altre tentazioni, non a Beatrice che non era tentazione perché era un angelo divino, ma a qualcosa che l'avrebbe portato verso ai peccati che poi in realtà ha dovuto affrontare nella selva oscura, cioè la lussuria, la superbia e la cupidigia. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta mera, fui io a lui men cara e men gradita. Quando dalla carne allo spirito ero salita, cioè quando morii, e bellezza e virtù mi era cresciuta perché ero diventato un angelo del Signore, io fui a lui meno cara e meno gradita, cioè tanto più io ero diventata bella perché ero più santa, tanto gli ero meno gradita. E volse i passi suoi per via non vera, cioè girò i passi verso una via meno vera, immagini di bene seguendo false, seguendo false immagini di bene che nulla promession rendono intera, che non rendono nessuna promessa, cioè non portano a salvezza eterna. Nell'impetrare ispirazioni mi valse con le quali in sogno e altrimenti lo rinvocai, si poco a lui ne calze, cioè nel chiedere chiaramente a Dio ispirazioni mi valse ebbe valore con le quali sia in sogno sia in che in un'altra maniera lo richiamai, così poco a lui gli importò, diciamo, le calze. Cioè qui Beatrice dice guarda che io ti ho mandato in sogno e in altre maniere, diciamo, degli ammonimenti tramite la grazia divina, ma in realtà tu non l'hai mai ascoltato. Cioè giù cadde tanto giù nella perdizione del peccato che tutti gli argomenti per la salute sua, per la sua salvezza, erano corti, erano brevi, ormai non avevano più tanta possibilità di avere effetto, fuori eccetto che mostrargli le genti perdute, cioè le genti dannate. Per questo visitai l'uscio di morti e a lui che l'ha qua su condotta li preghi miei piangendo a un furpo porti. Cioè per questo andai giù nell'inferno all'uscio alla porta dei morti, verso colui che l'ha condotto quassù e furono porti, e a colui che l'ha portato qua giù furono porti, furono offerti, le mie preghiere piangendo. Vi ricordate la scena in cui Beatrice arriva dal Virgilio piangendo, dicendo salve al mio amico, e Virgilio accetta. Alto fato di Dio sarebbe rotto se le tè si passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcun scotto di pentimento che lacrime spanda. Cioè alto fato di Dio, l'alto destino di Dio sarebbe rotto se si passasse le tè, cioè si passasse il fiume Lete, e tal vivanda fosse gustata, cioè l'acqua del fiume Lete, che è il fiume della dimenticanza del mondo, diciamo, come dire, terrestre, è un fiume classico, diciamo, dell'aldilà del mondo classico, fosse gustata quest'acqua senza alcuno scotto di pentimento, senza che ci fosse alcun pentimento, che lo conduca a spandere lacrime. Cioè Dante, per varcare l'Eden e quindi di fatto avere l'accesso al Paradiso, perché l'Eden è la strada che poi porta al Paradiso, deve pentirsi di tutti i suoi peccati. Così farà e avrà accesso al Paradiso. Grazie mille. Grazie.